4 One Photo, Enrico Bellei, 5 My Flower, Marco Volpato, 6 Morgano P, Giuseppe Portio. Seconda fila, 7 Most Wanted Boss, Andrea Buzit, 8 Offensore P, Riccardo Pestatini, 9 Leader Bag, Andrea Farolfi, 10 Nuclear Eors, Francesco Virzi, 11 Mondo dei Sogni, Maurizio Cheli, rapporto di scuderia fra i numeri 8 e 9. Favori netti in chiusura per One Photo con Enrico Bellei. Veloce Marina di Pisa, che però non riesce a scavalcare completamente online rock. Sentiamo le urla di Flavio Martinelli, che cerca di resistere, ma poi alla fine probabilmente riesce a passare Marina di Pisa, che ricordiamo ha corso anche ieri a Firenze, e lo fa, però spende un veloce 14,2. Ora vediamo se One Photo si presenterà subito al largo della femmina per chiedere strada. All'esterno Enrico Bellei sta avanzando gradualmente, intanto il primo quarto viene passato in 29,6. Sta arrivando One Photo, pedinato da Morgano P, sempre secondo online rock, che non è riuscito a tenere la corda. Ora Marina di Pisa arriva in vantaggio ai 600 metri, 600 metri passati in 45,2. Ora One Photo è ai suoi fianchi, non sembra intenzionato neanche troppo andare a chiedere strada. Vediamo Enrico Bellei si limita ad accompagnare la femmina. Intanto il primo giro viene appassato in un minuto secco. Morgano P di fuori, pedinata a sua volta da Leader Bag, cavalli sulla penultima curva, sempre con Marina di Pisa. Si gira Alessandro Muretti, controlla la situazione, ma il pericolo ce l'ha di fianco. È quello di One Photo, chilometro in 1,14,7. Molto veloce per la categoria. Ancora in mano Enrico Bellei, che sembra che può passare quando vuole, ma non ha fretta. Parlottano i due, poi sempre mezzo cavallo, sempre online rock in scia i due. Ora One Photo sembra sul punto di poter passare. Ancora in quota Marina di Pisa, poi online rock lungo la corda. One Photo è passato decisamente a 200 metri dalla conclusione e si presenta in netto vantaggio, in retta d'arrivo. è ancora in netto vantaggio, Leader Bag cerca di ricolmare il gap, poi anche Guinness, ma One Photo viene a vincere facile su Leader Bag. Terzo posto per Guinness, 1,14,3, la media al chilometro per il netto favorito. One Photo, 1,44 la quota, viene a raddoppiare Enrico Bellei dopo il successo in apertura, con questo figlio di Breach Photo, allenato da Holger Ellert. Unagenack